Vi rubo giù su due secondi per informare soprattutto ai nuovi arrivati di iscriversi al canale e di attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun video di The Walking Dead Che dire, iniziamo subito Bella a tutti ragazzi, su Parlo è Foxound e bentornati nel canale The Walking Dead News Spoiler e altro, sono tornato ragazzi con un nuovo episodio del Question and Answer Questo Question and Answer è dedicato principalmente all'episodio 13 ma non è che troverete solamente domande sull'episodio 13 ma troverete domande in generale Quindi, come sicuramente avete letto dal titolo, il titolo è proprio questo Morgan non ha ucciso Richard Scopriremo tantissime risposte a questa e altre domande in questo episodio del Question and Answer Ovviamente ragazzi se avete qualsiasi domanda da farmi potete farla tranquillamente qui giù nei commenti Scrivendo Q e commerciale a due punti e scrivendo la vostra domanda E così potrebbe apparire nel prossimo episodio del Question and Answer Mi raccomando ragazzi fatemene tantissime così che il prossimo episodio e i prossimi episodi potranno essere fatti senza problemi Quindi ovviamente più domande ci sono e più domande rispondo e quindi avreste più domande di apparire appunto nel prossimo episodio del Question and Answer Che dire, possiamo iniziare senza dirci altro, senza insomma perdere tempo E partire subito con quella che è la prima domanda che ci fa Peppe Binetti Che ci chiede il Question and Answer Secondo te perché Sigel è rimasta a guardare mentre Morgan è un uomo relativamente nuovo Uccideva il suo braccio destro? Secondo te Richard è ancora vivo perché rivedendo la puntata Morgan non lo uccide alla testa alla fine Ma il coltello lo porge alla mano Inoltre mentre trasporta il suo cadavere non c'è neanche una scia di sangue Allora questa cosa è davvero una cosa interessante detta così nel senso in generale proprio quello che riguarda il fatto che Morgan abbia ucciso Richard Perché moltissime persone, non solo moltissime persone ma moltissime nel senso proprio tante persone Soprattutto anche in America, in Italia, insomma un po' tutti quanti nel mondo di The Walking Dead Si sono fatti questa domanda ma effettivamente Morgan ha ucciso Richard Perché questa è una domanda che comunque molti si fanno Perché comunque ci fa capire, ci fanno capire tanti particolari che potrebbe non averlo effettivamente ucciso Perché come sapete il fatto che Morgan abbia fatto allontanare quelli del regno prima di porgere il coltello alla testa per uccidere Richard Si è vista la visuale da lontano quindi non si è visto chiaramente Morgan uccidere Richard E poi inoltre quando stava Morgan trascinando il corpo come dice appunto Peppe Binetti Che diceva appunto che quando trascinava il corpo non c'era neanche una scena di sangue Ciò potrebbe farci capire che comunque Morgan non abbia ucciso effettivamente Richard Ma ve lo dico che questa cosa la possiamo escludere tranquillamente In quanto stava seppellendo il corpo e si vede che stava seppellendo il corpo Quindi il fatto che il senso dell'episodio era proprio Barry Mear Mi sembra troppo scontato che effettivamente non sia così Nel senso che sicuramente Richard è assolutamente morto Lo dico perché altrimenti il senso dell'episodio va a perdersi Perché comunque il senso dell'episodio girava intorno a Richard e Morgan E Carol vabbè in generale insomma quelli che sono particolarmente personaggi di Richard e Morgan Quindi parliamoci chiaro Non farlo morire sarebbe un errore Perché comunque insomma è un errore davvero troppo grande Perché sappiamo benissimo che se davvero fosse così Io sinceramente mi lamenterei Nel senso di perché ancora vivo Richard Cioè non ha senso secondo me il fatto che sia ancora vivo Quindi io posso escludere tranquillamente La cosa che effettivamente Richard possa essere ancora vivo Quindi no Secondo me assolutamente Morgan ha ucciso Richard Perché comunque Morgan è tornato il Morgan della terza stagione Speriamo non il proprio effettivamente il Morgan della terza stagione Ma magari un Morgan un po' più sano E diciamo non totalmente pazzo come era nella terza stagione Speriamo che abbia trovato una via di mezzo Però no Secondo me assolutamente Richard è assolutamente morto Prossima domanda ce la fa AmySquadChannel Question and answer Secondo Rick potrebbe perdere la testa Come è successo per Lori Magari con la morte di una persona a lui cara Allora sì assolutamente sì Secondo me il fatto che abbia Che possa impazzire come quando è morta Lori Che lì Rick l'abbiamo visto veramente in uno stato emotivo davvero difficile Infatti è completamente esploso a livello di testa Cioè non ce la faceva veramente più a sopportare una cosa del genere Quindi assolutamente sì Credo che sia possibile Magari con la morte non di Michonne Ma con la morte di un personaggio secondo me ancora più caro Magari per la morte addirittura di Carl Anche se non credo che Carl muoia Ma comunque avrebbe senso Nel senso che se lo facessero con Michonne Non avrebbe più senso Perché l'hanno già fatto con Lori Quindi perderebbe un po' il significato Però se dovesse succedere con un personaggio a lui caro Magari come Daryl Come altri personaggi che sono a lui cari Potrebbe tranquillamente Rick In questo caso potrebbe perdere la testa Esattamente come è successo nella terza stagione Quindi assolutamente questo sono d'accordo con te Prossima domanda ce la fa Jacopo Ferretti Questo è un'answer Cosa pensi sull'ottava stagione Come te la immagini E secondo te Daryl potrebbe impazzirsi E uccidere lui stesso a Gregory Oppure uccidendo clamorosamente Simon Fox sei un grande Ti ringrazio innanzitutto per il complimento Perché sono sempre ben accetti E vi ringrazio sempre per tutto il supporto che mi date Ehm Il fatto che comunque Cosa pensi sull'ottava stagione Rispondiamo con ordine Allora nell'ottava stagione Io penso che ci sia Cioè spero veramente di vedere Un'ottava stagione veramente col botto Nel senso che ci Veramente Mi aspetto davvero tanto da questa ottava stagione Perché è l'ottava stagione Che deve essere proprio Deve spaccare al massimo E credo che l'ottava stagione Sarà una delle migliori stagioni Di The Walking Dead Perché comunque Io l'ho preferito Diciamo la stagione preferita mia Di The Walking Dead Come l'ho sempre detto È la sesta Perché mi è piaciuto davvero tantissimo La seconda Anche la terza a suo modo Però la sesta devo dire Che mi è piaciuto davvero tanto E credo che l'ottava stagione Sarà ai livelli Della sesta stagione Che abbiamo visto A livello di qualità A livello di azione A livello di introspezioni Di personaggi Sarà una stagione Secondo me Dedicata Praticamente per lo più Alla guerra contro Negan Quindi sarà Ovviamente in un episodio Succederà qualcosa Che Diciamo Farà Scattare la guerra Cioè nel senso Si vedrà sicuramente Come sono messe le fazioni Dopo il primo scontro Perché sicuramente Nel primo episodio L'ottava stagione Credo che avvenga Il primo scontro In assoluto E speriamo anche Nella settima stagione A fine settima Di vedere una cosa del genere Poi negli episodi successivi Nel senso che negli episodi Dopo Magari Il secondo episodio Il terzo episodio Il quarto episodio Ci sarà un'introspezione Dei personaggi Dopo la guerra Quindi dopo il primo scontro No dopo la guerra Dopo il primo scontro Quindi Negan Come l'ha presa L'organizzazione di Negan Per attaccare Rick Oppure viceversa Sarà Comunque Una stagione Che Rispecchierà Esattamente Ciò che i fan Volevano Da quella settima Cioè da questa settima qua Perché la settima Sinceramente Nessuno se lo sarebbe Aspettato Di vederla Molto più lenta Rispetto ad altre stagioni Non che sia brutta Perché io la definisco Assolutamente splendida Come stagione Anche se è più lenta Questo lo dobbiamo ammettere Però a me Sta piacendo davvero tanto E quindi Un'ottava stagione Me la aspetto Come la immagino Un po' come la sesta stagione Di The Walking Dead Che c'è stata Quindi secondo me Una cosa del genere La potremmo tranquillamente vedere Per quanto riguarda Invece la seconda domanda Secondo te Daryl Potrebbe impazzirsi E uccidere lui stessa Gregory Io credo che sia Tranquillamente possibile Perché magari Gregory Fa la spia Dicendo che Maggie e Daryl Sono lì Poi non li trovano Perché magari Si nascondono bene Non li trovano I salvatori se ne vanno E Daryl li prende E uccide Gregory Proprio perché Giustamente Il fatto che l'abbia tradito Per lui è importante Magari Gregory potrebbe Tranquillamente Essere ucciso Da Daryl Oppure uccidendo Anche clamorosamente Simon Quindi potrebbe Arrivare al punto Di poter uccidere Diciamo il braccio destro Di Negan Perché Simon È il braccio destro Di Negan Quindi Si la vedo Un po' più probabile La prima Che la seconda Perché credo che Simon Non muoia Non muoia In questo episodio Credo di no Potrebbe essere Nel senso Potrebbe morire In questo episodio Ma non ce lo vedo Sinceramente Però succederà Sicuramente qualcosa Questo è poco Ma sicuro Perché nel 14esimo episodio Fidatevi Che vedremo davvero Tante belle cose Prossima domanda Ce la fa Rocco Criscio Che ci chiede Question E l'eventuale Ritorno di un Morgan Pazzo come la terza stagione Potrebbe portarlo A uccidere un personaggio Del gruppo di Rick Questa è una bella domanda Secondo me No Perché comunque Ricordiamo che Il pazzo La versione Pazza di Morgan Non l'abbiamo mai vista Integrante Nel gruppo di Rick Cioè nel senso Abbiamo visto Cioè Morgan Entrata a far parte Nel gruppo di Rick Dopo il cambiamento Quindi dopo Eastman Quindi non abbiamo mai visto Un Morgan Nel gruppo di Rick Della terza stagione Quindi un Morgan Pazzo Quindi sarà una cosa interessante Vedere come si approccerà Con questo suo atteggiamento E se magari sarà Differente Dall'atteggiamento Che abbiamo visto Nella terza stagione Ma comunque Non credo Che lo porterà A uccidere un gruppo di Rick Un personaggio del gruppo di Rick Non credo Non arriviamo a questo punto Nel senso Non credo sia una cosa Una cosa che si possa Vedere Nel senso Sicuramente Assolutamente Credo che non la vedremo Poi ovviamente Potrebbe essere Fatemelo sapere Comunque voi Nei commenti Prossima domanda Ce la fa Luigi Thomas Locci Question and Answer Domanda semplice Ma curiosa Secondo te Da dove viene Il nome di Lucille Allora questa è una domanda interessante Questa è una domanda Bella 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 Allora Diciamo che contiene Spoiler Questa risposta Quindi ovviamente Per chi non vuole Scoprire la backstory Di Negan Vi consiglio di chiudere Assolutamente Questo video Oppure di Schippare direttamente Alla domanda successiva Proprio perché ovviamente Potrebbe contenere Alcuni spoiler Su quello che è Diciamo Negan E il suo personaggio E la sua backstory Per chi non sapesse cosa è la backstory E la sua storia precedente Si capisce anche dal Dal nome Comunque Allora Lucille In realtà Era il nome di sua moglie Che morì Diciamo Non mi ricordo Il motivo per cui morì Però comunque Il nome della moglie Che morì Prima dell'apocalisse Oppure durante Non mi ricordo effettivamente Però era il nome della moglie Che purtroppo morì Allora A questo punto Cosa successe Che ovviamente Negan era Mi pare un allenatore Una cosa del genere Era un insegnante Adesso non mi ricordo bene Cos'era Ma credo un insegnante Perlomeno nel fumetto E Lucille Viene proprio dal nome Di sua moglie Quindi effettivamente Il fatto che Negan Chiami effettivamente La sua mazza Lucille È esattamente Il nome della moglie Che è morta Ed è per questo Che dice Lucille È stupenda Diciamo Utilizza Lucille Proprio come se fosse Una persona Perché proprio Effettivamente Vuole ricordare Sua moglie Che purtroppo è morta Quindi credo che ci sia E speriamo che ci sia Un'introspezione Più diciamo Approfondita Della psicologia Di Negan Ci spero veramente tanto Perché è una bella storia E secondo me Ci farebbe capire Diciamo i suoi punti di vista Perché comunque Insomma un personaggio Pazzo come Negan Secondo me Dovrebbe essere abbastanza Analizzato A livello psicologico Prossima domanda Ce la fa Marco Giannelli Quale questione Anzi Ho riscontato l'aereo Che è passato nella 7X10 Quindi nel decimo episodio Della settima stagione È un errore di The Walking Dead Oppure un vero e proprio aereo Inserito nella serie apposta Sei un grande E continua così Allora ti ringrazio Innanzitutto per i complimenti Marco Grazie mille E comunque no Secondo me l'aereo Credo che sia esattamente Non sia un errore Di The Walking Dead Ma sia proprio Un vero e proprio easter egg Che già ho fatto Un video a riguardo Infatti per chi Non l'avesse visto Appunto lo trovate Tranquillamente nel canale Eh sì Secondo me è un easter egg Per chi non sapesse Cos'è un easter egg È una sorpresa Che viene aggiunta All'interno Di un qualcosa Per diciamo Ricordare Oppure semplicemente Per farlo notare Ai fan Quindi credo che l'aereo Sia stato proprio Un easter egg Che l'AMC O in generale I produttori Hanno voluto mettere Nella serie Credo sia una cosa interessante Perché sicuramente Tutti l'avranno notato Ma non credo assolutamente Che sia un errore Di The Walking Dead Perché Un The Walking Dead Che fa questi errori Veramente Secondo me È davvero troppo Quindi no Credo assolutamente Sia un easter egg Fatemi comunque voi sapere Nei commenti Cosa ne pensate Prossima domanda Ce la fa Paolino Rick Questo è un answer Fox Te l'avevo chiesto Anche nella live Ma c'erano parecchie persone Secondo te il capo Di quelli che scambiano Con Re e Sikiel Potrebbe davvero Ribellarsi Ai salvatori Era troppo incazzato Per la morte di Benjamin Ragazzino Vorrei sapere Un tuo parere Più approfondito Sulla cosa Ti seguo Se è il numero uno Fox Grazie mille innanzitutto Per il complimento Paolino No comunque Assolutamente no Mi dispiace innanzitutto Di non averti risposto Nella live Ma quando facciamo le live Per chi non lo sapesse Le live Non le faccio da solo Ma le faccio in compagnia Di un mio amico Le facciamo esattamente Ogni lunedì Quindi per chiunque Volesse guardarle Le può assolutamente guardare Ogni lunedì Dopo la puntata C'è la live Di riflessione Sull'episodio Della reazione Eccetera eccetera Quindi non perdetevele E mi dispiace appunto Di averti risposto Ma ci sono davvero Tante persone Nella live Che fanno domande Quindi ovviamente C'è difficile Per noi rispondere a tutti Comunque potrebbe essere Quello lì Che comunque È il capo Diciamo Di salvatori Si può dire così Il capo Il gruppetto di salvatori Quando va a prendere Le provviste Dal regno Secondo me potrebbe Assolutamente Ribellarsi i salvatori Perché comunque Ce l'ha una coscienza Rispetto ad altri Nel senso che Di tutti i salvatori Credo sia l'unico Che ha veramente Una coscienza umana Nel senso una coscienza Che comunque Diciamo Lo fa Ma perché è costretto Cioè si vede Che lo fa Perché è costretto Non come gli altri Magari come Quello là Che ha sparato Al ragazzino A Benjamin Che ovviamente Lui lo fa proprio Perché è un bastardo Nel senso Se ne approfitta Di questa cosa E quindi si diverte A vedere Sottomettere le persone Ma assolutamente No Credo che A differenza di lui Qui il capo lì Dei salvatori Quindi quello che Diciamo di quelli Che scambiano con il re Di Sikiel Sia effettivamente Una persona Veramente A livello umano Molto più Coscienziosa Mi veniva la parola E molto Molto più umana Rispetto ad altri salvatori Questo lo so Lo metto in chiaro Perché comunque È davvero un personaggio Diverso dagli altri Comunque si Potrebbe Ribellarsi ai salvatori Questa cosa È una cosa molto probabile Secondo me Potrebbe ribellarsi Ma non credo Avrà vita facile Nel senso che sicuramente Negan lo ucciderà O cose del genere Perché è un personaggio Troppo strano E troppo Secondo me assurdo Da ribellarsi ai salvatori E poter sopravvivere Quindi secondo me Insomma quando si ribellerà Se si ribellerà Secondo me potrebbe Assolutamente morire Prossima e ultima Credo Sì Prossima e ultima Domanda Ce la fa Appunto Tamarro Cala la pasta XD Un nome un po' Diciamo Così insomma Questo è un answer Ma it Che cazzo di fine ha fatto Comunque ti stimola Grazie mille Tamarro E comunque niente Allora It Come sapete È scomparso nell'episodio 6 No Che è scomparso Perché è scomparso Ma perché Effettivamente dopo che Tara era cascata Dal Diciamo dal dirupo Si può dire così Oppure dalla struttura È andata nel fiume Praticamente Non si è più visto It E quando Tara È ritornata lì Ha visto semplicemente Un Una cosa Una scritta Che ha lasciato sicuramente It Con scritto PPP Che dovrebbero essere Dei sussurratori Quindi il nuovo gruppo Che si introdurrà Più avanti In The Walking Dead Quindi molto probabilmente It verrà Rintrodotto Con i sussurratori Che ovviamente Ci saranno molto più avanti Però comunque It non è assolutamente morto Perché comunque È quello che ci vogliono far credere Ma in realtà È stata una mossa Dei produttori Perché non poteva più Registrare per The Walking Dead Ma doveva registrare Per un'altra serie E quindi E quindi Praticamente È stato fatto uscire Di scena Proprio per quel motivo Nel senso È stato anche Una cosa in più Però comunque È stato principalmente Proprio per questo motivo Perché comunque It non poteva più Registrare le puntate E quindi Hanno deciso di fare In questo modo Quindi per adesso Insomma It È scomparso Se si può dire così Ma assolutamente Verrà Rintrodotto Poi successivamente Nei prossimi Nelle prossime stagioni Con i sussurratori Che dovrebbe essere Veramente un bel gruppo Che vedremo nelle prossime stagioni Quindi allora ragazzi Queste erano le domande Per il question and answer Di oggi Fatemene altre Qui giù nei commenti Ovviamente Sapete come farle Q e commerciale A due punti La vostra domanda Quindi se avete Qualsiasi domanda da farmi Potete farla tranquillamente Qui giù nei commenti Spero che questo episodio Del question and answer Vi sia piaciuto In tal caso vi ricordo Di lasciare un mi piace Di iscrivervi al canale Se non è ancora fatto Per non perdervi I prossimi contenuti Di The Walking Dead Ed inoltre Vi ricordo di passare Nella pagina facebook Nel profilo instagram Se volete seguirmi anche lì Trovate il link Nella descrizione Noi ci sentiamo Ad un prossimo video Un saluto da Foxano The Walking Dead News Spoiler e altro Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Io ti ucciderò